Sì, come appunto hai detto giustamente, noi proveniamo da una cultura dell'uomo padrone, quindi in realtà è proprio una questione genetica nel senso del nostro patrimonio culturale. Però io noto, e stasera ne è la prova peraltro, di un cambio di tendenza, perché peraltro veramente si possono trarre molti spunti anche dall'intervento appena fatto dall'avvocato e mi piacerebbe mettermi in contatto anche con questa associazione perché è un filo conduttore anche con ciò che è successo durante la campagna elettorale che ho vissuto anche a sostegno del presidente Luca Zaia, perché in tanti dicevano ma chissà in quante donne non ti voteranno. Invece c'è stata una grandissima dimostrazione perché si creò un gruppo che appunto ancora esiste, si chiama Donne in 3D perché noi abbiamo messo al centro, l'attenzione tutta, tre termini che appunto rappresentano le D, quindi dignità, disciplina e denaro. Perché la donna nel 2021, la donna del nostro secolo, deve essere veramente una donna moderna e all'avanguardia, per cui questi termini, dignità, per essere un esempio per tutte quelle donne che appunto non ce la fanno a dire basta magari a dei rapporti malati perché ci sono ovviamente rapporti che soffrono di una dipendenza affettiva e questo è diciamo il caso più comune, ma poi anche per una dipendenza magari economica, una dipendenza culturale, quindi la disciplina intesa come insegnamento culturale di una crescita poi intellettuale, perché le donne al giorno d'oggi sono apprezzate per le loro capacità cognitive, abilità diciamo in senso proprio più stretto a livello lavorativo, non devono essere considerate come dicevo prima, prima avevo fatto quel diciamo anche, quel preambolo quando ho detto non dobbiamo essere considerate come donne, come panda in via d'estinzione, perché la donna ormai è a tutti gli effetti comunque il genere riconosciuto anche essere forte, ci tengo a precisare che prima appunto parlavamo delle donne in politica, io stasera molto sommessamente mi sento magari più avvantaggiata perché supporto appieno una leader che si è dimostrata coerente e con una grandissima capacità non solo appunto intellettiva ma anche nella conquista tutti i giorni non solo dell'autorità ma anche dell'autorevolezza ovvero stima, fiducia, consenso e questo appunto si ricollega al fatto che la donna oggi dimostra di essere capace a 360 gradi perché in ogni caso l'ultimo termine, chiudo appunto sui tre termini del gruppo donne in 3D è denaro, la donna oggi non dipende e non dovrebbe più dipendere dal portafoglio dell'uomo, quindi questa è sicuramente una variabile che aiuterà anche a magari venire meno di abusi dentro le mure domestiche. Quante donne, scusi se interrompo, quante donne sono costrette a subire inconsciamente si limitano perché magari devono dipendere dal reddito del marito? Perché è un circolo vizioso, perché poi ovviamente magari molte hanno paura di abbandonare la cosiddetta comfort zone, quindi la sfida dell'incertezza, preferiscono magari mantenere seppur soffrendo le loro certezze, però devo dire che il periodo Covid sta mettendo tutto in discussione perché ci sono sicuramente lati molto molto negativi assolutamente perché poi il governo ha sopravvalutato il benessere delle famiglie perché c'è chi invece aveva già magari a carico, appunto abbiamo detto un anziano in casa, piuttosto che i caregiver dei bambini con sindrome dell'autismo, quindi pensiamo alle mamme che già combattevano tutti i giorni e che si sono trovate isolate, abbandonate dal governo senza i sussidi, senza gli aiuti e senza magari gli aiuti sanitari perché ovviamente concentrati più sul tema Covid. Come dici tu giustamente, ci sei dimenticati di tutte le problematiche perché è incredibile come ormai non si pensi alle donne nei reparti oncologici. Quante persone stanno soffrendo e stanno morendo di tumore al seno o del papilloma virus? Grande argomento il papilloma virus perché oltre al Covid che sappiamo essere un virus, però non ricordiamoci che ci sono anche situazioni che bisognerebbe porre all'attenzione e come donna mi sento assolutamente portavoce di tutte queste istanze.